Mister, so che hai chiesto ai tuoi ragazzi e che vuoi un Verona che vada a giocare molto alto, che metta sempre tanta intensità. Possiamo dire che in questa partita sia visto? Sì, sì, siamo stati bravi a metterli subito in difficoltà sulla prima pressione. Avevamo studiato, insomma, il loro modo di giocare era un po' stile spagnolo, diciamo. E quindi non volevamo farci attrarre fuori troppo, ma nello stesso tempo essere aggressivi per non lasciare gli spazi alle spalle. Quindi siamo stati bravi, abbiamo fatto un po' di confusione forse all'inizio, potevamo gestire un po' meglio la palla, però molto bene. Insomma, abbiamo avuto tante occasioni, potevamo anche fare prima i gol. E poi siamo stati attenti anche il secondo tempo quando loro si sono alzati un po' di più. Comunque stiamo migliorando anche nella fase di attesa, diciamo così, che è quello su cui stiamo lavorando. Allora, 2-2 all'esordio contro l'Inter, una gara non facile. Oggi arriva il 3-0, quindi due risultati consecutivi. Stai già vedendo la tua mano dopo appena due partite, quello che vuoi da questi ragazzi? E quanto soprattutto? Sì, stiamo lavorando. Abbiamo iniziato il 3 agosto, quindi sicuramente alcune cose che chiedo le sto vedendo. Si stanno impegnando molto tutti i ragazzi. Ho un gruppo grande, numeroso. E si stanno veramente tutti impegnando. Anche i ragazzi che oggi sono andati in tribuna, che sicuramente ci daranno una mano. Perché, come ho detto, il campionato è lungo ed è difficile. I ragazzi sono veramente tutti quasi sullo stesso piano, quindi per me è difficile scegliere. Però, insomma, stanno impegnando molto. Venivano da annate in cui giocavano in maniera diversa e quindi io chiedo tanto. Però vedo i frutti e questo è l'importante. Al di là dei risultati che fanno piacere, danno fiducia nel lavoro che stiamo facendo. Però si vede che si stanno impegnando sotto quel punto di vista. Un'ultima domanda, la rivolgo a te, perché è il primo anno nel settore giovanile del Verona. Allora, ti chiedo un po' come ti stai trovando in queste prime settimane di lavoro. Che gruppo hai trovato e proprio come ti trovi anche tu. Qual è stato il tuo primo approccio? Come ti ho detto, il gruppo è veramente un gruppo sano, che lavora, che non ha problemi a far fatica. Quello è importante perché comunque sono ragazzi che stanno diventando adulti. e il prossimo step è la primavera, che è come se fosse un campionato di grandi. Quindi dobbiamo cercare di prepararli per l'anno prossimo. Io personalmente mi sto trovando molto bene, c'è tutto. Quindi non posso chiedere di meglio per adesso.